salve ragazzi benvenuti in un nuovo video qui sul canale di alex oggi vedremo anzi argomenteremo un argomento scusate il gioco di parole molto molto discusso negli ultimi tempi ovvero ancora senso comprare un iphone di qualche anno fa lo scopriremo insieme sì avete capito bene oggi parleremo di due iphone che secondo me valgono valgono la pena di essere acquistati in particolare stiamo parlando di un iphone xs e di un iphone 12 che è anche quello con cui sto registrando questo video prima di perderci in chiacchiere partiamo sul nuovo video e partiamo dall'iphone xs dunque partiamo dalla batteria l'iphone xs è una batteria da 2658 mAh non è eccellente ma sicuramente può fare molto molto bene in giornate non troppo stressanti ad esempio una giornata normale lavorare tranquillamente certo non è adatto per usi lavorativi usi anche banalmente anche scolastici dove non si vanno a consultare appunti dove si vanno a consultare tutte le cose lì quindi si usa per un bel po di tempo al giorno ma secondo me è adatto alla grande maggioranza delle persone che non condono una vita troppo movimentata parlando di processore ha un processore a 12 bionic quindi non recentissimo ma comunque sappiamo che apple produce chip molto molto potenti il design che dire è un design spettacolare a mio avviso anche perché ha ancora quel design stondato come vi metterò in qualche parte lo schermo così una foto esemplificativa perché magari non lo conoscesse ma è davvero molto difficile non conoscere un iphone x in quanto è diventato molto popolare ed è una delle icone principali di apple è stato un vero e proprio cambiamento quando è uscito e secondo me quando è uscito abbiamo provato proprio quel brivido di nuovo che al giorno d'oggi è proprio difficile provare con i nuovi dispositivi che escono ogni anno in particolare con iphone 14 si abbiamo trovato il mio in particolare con il con 14 abbiamo trovato sì noi negamenti ma neanche dire wow comunque volo questo un display che c'era anche già sul pro watch quindi non sono implementato su iphone e la dinamica islam sinceramente non è un po in una grande innovazione anche perché su android o comunque in qualsiasi altro telefono samsung a huawei e così via già c'era stato implementato il foro all'interno del display ea forse anche più piccolo una fotocamera a una fotocamera posteriore a 12 megapixel con un teleobiettivo per una attenzione grand'angolo come ha invece l'iphone 12 che non ha invece volete l'obiettivo quale meglio dipende dipende ma se siete blog ovviamente meglio grand'angolo se siete dei fotografi magari vi può piacere anche un teleobiettivo per fare qualche macro la 2 per per un uso domestico sinceramente domestico un uso normale sinceramente non ha molto molto senso ma comunque c'è e lasciamola lì è in grado di registrare video in 4k a 30 film al secondo cosa che invece il nostro bell'amato iphone 12 può fare a 60 film al secondo a una fotocamera anteriore da 7 megapixel quindi non è poi che anche in quanto quel brivio di dettaglio non c'è quindi se volete dettaglio nella chiamata anteriore può andare su un iphone nuovo o anche dopo le poteriamo sull'iphone 12 che secondo me ha il giusto compromesso parlando invece di sblocco non ha più il touch ed in quanto è senza cornici ma ma comunque presenta il phase d che comunque una grande implementazione per questo modello che stanno anche un po in tema processori un po in tema antenne presenta un'antenna 4g e prodotti 5.0 quindi di certo dal punto di vista della connettività non vi perdete nulla parlando dei prezzi ormai iphone x lo trovate con ricondizionato e parte da 360 euro in circa per una versione base da 64 gb fino a arrivare al massimo di 550 560 per una versione da 512 gb ma ripeto un iphone xs è dedicato tutte le persone che non ne vanno uso troppo spinto e quindi secondo me a quel punto la e quindi secondo me a quel punto il giusto compromesso o è 64 ma forse 64 anche un po troppo poco 128 massimo 256 ma già 512 comincia a diventare davvero davvero troppi ora parliamo invece di iphone 12 ovvero l'iphone cosa tutti i giorni il mio iphone principale con cui sono registrando questo video e partiamo subito vi dico subito che la batteria è una batteria un po più grande rispetto all'iphone xs infatti una batteria da 2815 mila per ora e quindi è un po più grande e permette una maggiore autonomia inoltre questo problema può essere anche obviato con le varie ecologie che questo è completamente ovvero tecnologia mic safe che ovvero la calamita rotonda che si trova dietro l'iphone che permette l'accesso a un sacco di accessori tra cui anche le batterie che si attaccano in modo maniera con l'iphone e lo ricarico quindi in modo molto molto comodo senza installare quelle fastidiosime cover cover o banalmente portarsi il cavo con il power bank mac safe però permette anche di di connettere dei portafogli o anche altri accessori inoltre questo iphone è anche dotato di una fast charging a 20 watt quindi un attore supportato che ricarica circa l'iphone in un'ora un'ora e 10 quindi veramente veramente ottimo anche perché con l'intratturino da 5 watt lo ricarichiamo in due ore e mezza circa quindi davvero molto molto tempo addirittura prima il mio ipad era caricarsi che l'iphone a che l'iphone quando lo carico appunto con l'intratturino da 5 patto parlando di display questo iphone a un display super rating a xtr oled che supporta sia il truton sia l'htr quindi un display eccellente come tra l'altro anche come tra l'altro anche iphone xs ha un display oled quindi davvero davvero ottimo se consideriamo appunto la qualità di display in confronto a telefoni che possiamo trovare a quel prezzo lì parlando invece di fotocamere le fotocamere sono ottime ma non cambiano poi così tanto l'iphone xs si cambia per qualcosina c'è un miglioramento della fotocamera principale anche se è dotata anche se sempre a 12 megapixel come appunto nella con xs ma questo lo dico perché l'ho testato personalmente e c'è un miglioramento dalla fotocamera anteriore che passa da 7 megapixel a 12 megapixel lui presenta invece di un terribile per rappresenta invece un grand'angolo 0,5 quindi se fate vlog come faccio io quindi è molto molto meglio anche se io poi non faccio proprio quello blog ma dettagli comunque stavo dicendo anche la fotocamera di anche la grand'angolo è migliorata anche una grand'angolo è migliorata rispetto ai precedenti iphone non nel caso dell'iphone xs ma vi posso dire anche anche iphone 11 a una grand'angolo peggiori rispetto all'iphone 12 tecnologie lui ha un chip a 14 bionic quindi ancora molto molto potente e ha un supporto tecnologia 5g e bluetooth 5.0 quindi di certo la potenza qui non mi manca anche se il 5g non è proprio stanto diffuso ma comunque sempre è meglio avere qualcosa in più che qualcosa in meno parlando di design questo che questo iphone presenta un design squadrato come proprio i vecchi iphone come l'iphone 4s o forse anche per i più giovani che se non lo conoscete l'iphone 5s che è l'icona appunto di apple ma proprio come lo è anche l'iphone 4s questo iphone quindi può piacere può non piacere sinceramente preferisco al design dell'iphone xs con i bordi da acciaio e il vetro posteriore anche anche lui ha un vetro posteriore che comunque molto resistente il serenic shield ma infatti il vetro posteriore di iphone xs non è poi così così resistente ma è comunque molto molto bello ma vi ripeto sono gusti sinceramente le corne a me piacciono le cornici d'acciaio e non l'alluminio ma c'è gente che potrebbe anche preferire il contrario dunque siamo arrivati alla fine di questo video cosa cosa vi posso dire allora vi posso dire che un iphone xs come già detto anche in precedenza e siano tutte quelle persone che conducono la loro vita maggiormente in casa o comunque in un luogo dove è accessibile una presa di corrente e quindi può andare bene da quindi può andare bene banalmente da un studente delle medie forse per le superiori è già un po troppo poco ma dipende appunto dall'uso che se ne fa che se ne fa magari c'è lo studente superiore che deve prendere il treno ogni giorno e quindi tornare a casa deve avere una maggiore autonomia magari c'è lo studente che torna a casa subito perché abita magari di fianco a scuola quindi tutto dipende anche da voi magari può essere anche adatto a darlo a una persona anziana che magari non pretende tutto questo prende tutta questa potenza da un telefono ma comunque vuole un iphone vuole un telefono stabile un telefono che non si impalli banalmente iphone 12 invece è il mio iphone principale un iphone che secondo me va bene da uno studente medio come sono io fino al lavoratore che non ne fa però un uso professionale tuttavia il uso per registrare questi blog non è il top della qualità ma non è e poi ma non è neanche poi così schifosa come potete anche vedere dai miei video che esistono in 4k come vi ho detto una con 12 è perfetto per la stragrande maggioranza delle persone sia il rapporto della batteria sia il rapporto della qualità sia il rapporto alle fotocamere che ha quindi a meno che non è stato un uso professionale è che quel punto dovete andare su un iphone pro nella gamma però quindi come un iphone 13 pro secondo me al minimo un iphone 12 pro ma a questo a questo a questo giro iphone 14 pro invece è secondo me il top buy per e coloro che ne fanno un uso professionale quindi però è ovviamente anche il prezzo di si alza un iphone 12 parte da 460 euro circa per una versione 64 gb sempre di condizionato mentre fino ad arrivare a 256 gb di memoria con un prezzo di 660 euro circa poi dipende anche dall'offerta che trovate sui siti di ricondizionati quindi io spero di avervi chiarito l'idea con questo video spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando che rimanete collegati perché usciranno un sacco di episodi da veramente molto belle a mio parere mi raccomando iscrivete al canale attivate la campanellina perché a voi non costa nulla a me invece fate un grande date un grande aiuto quindi detto questo noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi